La casa, il tuo mondo, è dove sei cresciuto, dove sei diventato indipendente, è dove hai messo tutto te stesso. Per questo se devi fare dei lavori, non rimandare. Grazie alle nuove agevolazioni fiscali, hai il 65% di detrazione IRPF sulle spese per i nuovi infissi, i pannelli solari e tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica. Approfittali! Rimetti la casa al centro del tuo mondo. Grazie a tutti!